Comunque detto fra noi, il capitano come padre c'ha le sue colpe. Io non avrei mai premesso mio figlio di farlo salire sul carro armato. Tessitore, tuo figlio c'ha otto mesi. E poi tu l'hai visto una volta sola sta a fare il padre modello, matta. Sto parlando in prospettiva, gravina. Mettiamo che mio figlio ha dieci anni, sale sul carro armato e mi dice papà posso guidarlo, quindi dico io. Sì? No. No, eh. Ma perché scusa il capitano gli ha detto di sì? Non hai capito? È una questione... Prospettiva? No, prospettiva. Un padre deve essere proprio... Padre? Sì, ma non padre padre. Madre? Il tavolo da ping pong lo portiamo? Eh vabbè allora lo lasciamo. Passami il lanciarazzi. odorodichinio. Adoro bisogna fare un po lavoro.